Cari amiche e cari amici, allacciarsi le cinture in mano ai popcorn, c'è un articolo di Andrea Cionci. Titolo, quasi oscurata la pagina in italiano del catechismo sul sito Vaticano. Perché? Il webmaster fa le pentole, ma non i coperchi? Il Vaticano ha inspiegabilmente rimaneggiato la sola pagina italiana del sito con il catechismo, rendendolo molto meno fruibile. Fino a poco tempo fa, cliccando su qualsiasi articolo dell'indice, subito si apriva un testo desiderato che poteva essere liberamente copia e incollato. Facile, pratico, veloce. Così come viene ancora per le versioni nelle lingue più importanti per i cristiani, dall'inglese al francese, allo spagnolo, fino all'ettone e al malgascio. Per la pagina italiana non succede più. Abbiamo chiesto conferma a giornalisti cattolici, Riccardo Cascioli, Costanza Miriano, Andrea Zembrano, Aurelio Porfiri, che meravigliati confermano il cambiamento. Sulla pagina italiana i paragrafi sono ora inattivi e non cliccabili. È stato però inserito all'inizio un link evidente, che porta altre modifiche introdotte da Bergoglio all'articolo 2267, quello della pena di morte. Dopo lunga ricerca si scoprono otto piccoli collegamenti su un totale di 2865 articoli per scaricare quattro PDF dal contenuto enorme. Se poi si copia il PDF, quasi sempre esce uno scritto illegibile e non trasferibile. Ad esempio, grandi figure delle per nazioni, punto interrogativo, come X, Abele, Mezzo, il giusto, no, il re sacerdote, Melchisedec, hashtag 16, figura di Cristo, aggiungere il vaticanista Marco Tosatti. Sono cambiate le cose, anche per i motori di ricerca. Se uno oggi cerca su Google catechismo aborto, la pagina vaticano da not found. Al di là dei legittimi interrogativi, una cosa è certa. Qualcuno ha lavorato sul sito per cambiarlo. Non è un malfunzionamento, rendendo di fatto meno facile la fruizione e la divulgazione della dottrina cattolica. Per il direttore della nuova bussola quotidiana Riccardo Cascioli, una simile manipolazione è grave. Dovrebbero rendere conto del perché è stato reso più difficile divulgare le verità che la Chiesa è chiamata a testimoniare. Senza una spiegazione, il pubblico potrebbe pensare male. A tal proposito, sono diversi ormai gli intellettuali teologi che sostengono come Bergoglio, il quale, secondo alcuni, per le dimissioni forzate di Benedetto XVI non sarebbe neanche il vero Papa, ebbene Bergoglio stia scrivendo una nuova religione, lontana dal cattolicesimo, secondo dettami eco-massonico-mondialisti e pericolosamente anticristici. In tale ottica, rendere difficile confrontare le esternazioni di Francesco con la dottrina immutabile del catechismo, fallicitiliterebbe questa mutazione. Chissà. Certo, non aiuta l'annuncio che è stato fatto dal Vaticano sulla prossima trasmissione TV di Bergoglio, su Canale 9, dedicata ai sette vizi, che però non sono affatto quelli capitali, superbia, avarizia, lussuria, invidia, gula, ira, acidia. Ma altri. A presentarli ambiguamente è lo stesso sito Vatican News, dove si legge. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i sette vizi, ira, disperazione, incostanza, gelosia, infedeltà, ingiustizia, assoltezza e le sette virtù, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, fede, speranza e carità. Il motivo conduttore del dialogo tra Papa Francesco è il sacerdote Don Marco Pozza. Non sono dunque i canonici sette vizi capitali, tranne l'ira, ma sette vizi opposte alle vere virtù teologali e cardinali che Giotto ha dietro suggerimento del committente, il ricco usuraio Enrico degli Scrovegni, figlio di Riccardo, messo all'inferno da Dante, aveva scelto come pandan per le virtù del suo ciclo di affreschi nella famosa Cappella Padovana. Il fatto che Vatican News, pur citando il caporavoro giottesco, non abbia specificato come non si trattasse dei sette vizi capitali, ha prodotto disinformazione, confusione, tanto che agenzie, giornali, persino siti cattolici, hanno riportato la notizia citando i sette vizi capitali. Peraltro, non si è capito a che scopo sia stata presentata come gelosia quella che sull'affresco è esplicitamente indicata come invidia, dallo stesso Giotto. La storica e scrittrice Elisabetta Sala ha commentato sul giornale americano Church Militant «Molti cattolici sono stati privati dell'autentico insegnamento cattolico e dimenticheranno una tradizione che conoscono a malapena in favore di ciò che vedranno in questa serie televisiva. I media lo stanno già facendo e cancelleranno la tradizione cattolica dei sette vizi capitali. Certo, sarà un loro errore, perché il Papa non ha mai detto loro di farlo. Come sempre, si tratta di non predicare direttamente l'errore, ma di promuoverlo dietro le quinte». Su questo ognuno si farà la propria idea. Un dato certo è però che il riferimento al ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni consentirà a Bergoglio di non trattare il politicamente scorrettissimo vizio della lussuria. Un tema cheppure sarebbe di strettissima attualità, considerando come la degradazione della sessualità umana nelle forme più fantasiose, la pornografia, la pedofilia e lo sfruttamento sessuale siano tra le più gravi aberrazioni dei nostri tempi. Bravo Andrea Cionci, però non ti ho mai commentato, ma te voglio di due cose stavolta. Allora, fermo restando, caro Andrea, che i tuoi articoli sono fantastici, altrimenti non terrei due playlist sui miei due canali che portano il tuo nome. Ma a me, sto Papa, vero farzo che sia, insieme a tutto il Vaticano, mi hanno proprio stufato! Ma sarà che con sti lockdown, con la pratica di ervizio, mi sto proprio a divertì. E mi passa il tempo. E della teoria non mi può fregare di meno. Ervizio, caro Andrea, va praticato, va praticato, dammi retta, lascia perdere la teoria e pratica pure te! Pratica pure te! Vedrai come se sta meglio! Vedrai come se sta meglio! Ah, dimenticavo, eh! Lasciate il contributo al canale! Ciao a tutti! Grazie a tutti!